Tra meno di un mese sapremo chi saranno i nuovi presidenti delle province di Chieti, Pescara e L'Aquila. Sindaci e consigli comunali, con un peso proporzionale al numero dei residenti, voteranno il prossimo 18 dicembre. Entro questa domenica occorre presentare le liste e quindi una settimana fitta di riunioni, da cui dovrà uscire la quadra tra i partiti delle diverse coalizioni. Per quanto riguarda la provincia di Pescara, in casa centrodestra l'accordo sul candidato presidente è legato a doppio filo con il rimpasto di giunta nel capoluogo adriatico e nel comune di Montesilvano. E questa è la settimana in cui Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Udc dovranno risolvere le loro grane interne. Il carroccio starebbe spingendo per il nome di Ottavio De Martinis, sindaco di Montesilvano. I berlusconiani invece porrebbero tra i papabili Giorgio De Luca, primo cittadino di Manoppello, o Gilberto Petrucci, eletto a penne nelle recenti amministrative. Gli uomini della Meloni d'altro canto sarebbero ancora convinti su Matteo Perazzetti, sindaco di Città Sant'Angelo, o al limite sul sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo. Al caos nel centrodestra della provincia di Pescara corrisponde quello nel centrosinistra della provincia di Chieti. Qui PD e Movimento 5 Stelle, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero già d'accordo sul candidare il sindaco di Vasto, Francesco Menna. In ballo c'è anche l'amministrazione del capoluogo. A Chieti, infatti, il centrosinistra governa insieme al polo civico, che fa capo a Paolo De Cesare. Contattato dal Tg6, il vice sindaco ha dichiarato di contestare il metodo in atto tramite cui si sta scegliendo il candidato presidente. Noi vogliamo che sia il nostro sindaco Diego Ferrara a guidare la provincia, ha ribadito De Cesare. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra PD e civici. Se da questo dovesse venire fuori la fumata bianca, i pentastellati potrebbero essere esclusi dal processo decisionale. All'Aquila, invece, la corsa al momento è a due. Il centrodestra, salvo sorprese dell'ultimo momento, ricandiderà il presidente uscente Angelo Caruso, sindaco di Castelli Sangro. Vincenzo Giovagnorio, neosindaco di Tagliacozzo, invece dovrebbe essere il candidato sostenuto da PD e dal gruppo del sindaco di Avezzano di Pangrazio. Sarà sempre Gianni Di Pangrazio.